Allora, stasera ragazzi parliamo di Carlo Emilio Gadda. Che cosa ha Gadda di diverso dagli altri? Gadda inventa la lingua. Cioè, i narratori, gli scrittori raccontano delle storie, i grandi scrittori reinventano la lingua, trovano il nome delle cose e Gadda è tra questi. Poi Gadda fa tutta la vita fare ingegnere, e poi, in età avanzata, si trasferisce a Firenze, da Milano, poi si trasferisce a Roma, lavora per la RAI e arrivano i suoi capolavori. Che all'inizio la critica non lo ha decifrato subito, come tutti i grandi. Tutti i grandi geni anticipano di cent'anni la letteratura, l'arte che sarà. E lui ha fatto questa cosa lì. Lui è stato in grado di anticipare la letteratura moderna cent'anni prima. E non è stato capito naturalmente all'inizio.